Una provincia più snella in vista della città metropolitana. Con delibera digiunta, Palazzo Isimbardi ha infatti varato una nuova organizzazione interna, riducendo di 10 unità il gruppo dirigente e predisponendo l'accorpamento di alcune strutture. Dopo aver ridotto l'indebitamento della provincia, con il quasi azzeramento degli affitti, la riduzione del numero di auto e delle spese di telefonia, portierato e polizia, continuiamo dunque ad adottare buone pratiche in un momento delicato per tutti gli enti locali, ha dichiarato il Presidente Podestà. I presidenti della provincia di Milano, Guido Podestà e l'assessore Stefano Bolognini, hanno ricevuto il premio per la polizia locale e la protezione civile, nell'ambito della giornata della gratitudine organizzata da Regione Lombardia. L'aiuto delle donne e degli uomini che lavorano nella nostra polizia in queste colonne è sempre straordinario, ha dichiarato il Presidente. Abbiamo bisogno della loro generosità. Nella magnifica cornice di Palazzo Zimbardi si è svuoto l'evento Be Fashion Talents, una sfilata e una mostra dedicata ai brand emergenti della moda, legate ai valori dell'artigianato che fanno grande il Made in Italy nel mondo. La provincia di Milano, anche con questa manifestazione, promuove nuovi talenti, consapevoli di fornire ai giovani concreti sbocchi occupazionali, ha detto il Presidente Podestà. Per ogni informazione, visitate il nostro portale www.provincia.milano.it 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 www.provincia.milano.it